benvenuti un caro saluto da francesco samani e in questa nuova diretta tengo ci tenevo ci tenevo tanto a inserire un video relativo a come diventare insegnanti in realtà la domanda è quella che potreste avere all'inizio del video e alla fine del video potremmo dire come diventare insegnanti spero che questa domanda poi diventi un'affermazione e che sia per tutti chiaro leader processuale e procedurale per diventare insegnanti anche perché lo dobbiamo sempre contestualizzare al paese dove viviamo sicuramente il nostro paese ha un'enormità una grande vastità di atti normativi ecco perché può essere utile anzi è senz'altro utile fare un video del genere non il nostro dna abbiamo un eccesso di burocrazia e ovviamente il mondo della scuola non è esente da questa matassa ma anzi la scuola per una serie di motivi che sono sicuramente politici sicuramente storici la scuola ovviamente relativamente al percorso che ci fa arrivare ci conduce ad essere docenti insegnanti non è esente da questa difficoltà per cui ci sono regole che cambiano di continuo e spesso voi mi mandate messaggi non siete non sono in realtà la maggior parte dei messaggi forse un 10 per cento perché forse avete anche ci sono persone che hanno addirittura paura a fare questa domanda perché si parla di uta si parla di pdp di pay di tutti acronimi anche abbastanza difficili per chi non è abituato al mondo della scuola e magari c'è qualcuno che vorrebbe fare una semplice domanda ma come si fa a diventare insegnanti però magari a volte non la fa per paura di avere delle rispostacce ma delle rispostacce assolutamente non le deve avere nessuno bisogna fare chiarezza sui requisiti sicuramente quello che è fondamentale sono i requisiti bisogna quindi chiarire che cosa serve per svolgere il mestiere di insegnante ovviamente il mestiere di insegnante è di soprattutto di docente a tempo indeterminato come si fa ad arrivare a questo ovviamente in relazione ai posti disponibili che ci sono a scuola i posti comuni soprattutto ovviamente poi andrebbe fatto un escursus anche per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno gli insegnanti dell'infanzia e proprio qui un giovane aspirante docente mi scrivo concluso il percorso di laurea magistrale quinquennale scienze motore sono iscritto al bando 2020 2021 del percorso formativo antro psicopedagogico nelle pedologie didattiche per il riconoscimento 24 cfu vi scrivo le scrivo perché non mi è cara la procedura per ottenere un ruolo di insegnante di educazione fisica nella scuola italiana dove posso trovare informazioni sicuramente le informazioni che potrete che sono indispensabili da conoscere le trovate nel decreto legislativo lo scrivete potete scrivere su google ma io comunque più di qualcosa ve lo dirò non vi dirò tutto il decreto legislativo numero 59 del 2019 quindi una prima risposta è questa come vedete è molto recente quindi in questo decreto legislativo viene fissata una modalità di accesso al ruolo per la scuola secondaria da un punto di vista normativo vi è da tenere presente sempre il decreto legislativo del 1304 2017 numero 59 anche questo basta digitarlo su google basta digitare su google e se siete scettici potrete trovare una modalità di informazioni io cerco anche di sintetizzarle e di spiegarle in questo decreto lo metto virgolettato si specifica il riordino l'adeguamento parlano anche in realtà di semplificazione ma abbiamo detto che non è tanto semplice diventare insegnanti del sistema di formazione iniziale mettiamoci pure il di qualcuno altrimenti mi dirà professore francesco non c'è messo la di informazione iniziale e di accesso questa la parte più importante nei ruoli di docente lo metto virgolettato perché non sono parole mie e continua lo leggo per renderlo funzionale dalla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma dell'articolo 1 commi 180 181 lettera vita la legge del 13 luglio del 2015 numero 107 che prevede l'induzione di un concorso ordinario su base regionale quindi tramite concorso regionale su base regionale adesso spiegheremo meglio che cos'è questo concorso regionale molti di voi già lo sanno chi non lo sa ascolti perché probabilmente diventerà tutto più chiaro per titoli ed esami che va per titoli ed esami però da diretta a me sono soprattutto esami diciamo questo vi serve per la gradatoria finale cioè per la gradatoria finale diciamo in che posizione arrivate in questo concorso e diciamo che per la gradatoria finale arriva al massimo ogni 20% l'80% sono esami però mentre i titoli servono essenzialmente per la gradatoria finale gli esami di solito se non superati con una media cioè con un valore di 7 decimi per ogni prova quindi gli esami generalmente quasi sempre bisogna ad avere 7 decimi poi se il voto sarà in trentesimi 21 trentesimi e così via se sarà in centesimi 70 centesimi ma questi esami se non sono superati con almeno questi voti possono significare il fallimento la bocciatura ovviamente vediamola dal punto di vista positivo se si prende almeno 7 decimi 21 trentesimi si è promossi anche questo potrebbe non bastare perché ovviamente non basta superare tutte le prove ma se ci sono 10 posti bisogna entrare in quei 10 posti generalmente poi vengono previsti un 10 per cento di posti in più cioè se per class per quella specifica classica di concorso ci sono 10 posti in realtà poi diventano 11 andiamo per step perché come vedete già comincia ad essere un po' tortuosa la spiegazione lo step fondamentale è che ogni aspirante docente che ancora non è docente quindi ogni aspirante docente che cosa deve sapere assolutamente fare questo è fondamentale deve sapere a quali classi di concorso di insegnamento può iscriversi con la laurea magistrale abbiamo la possibilità di iscriverci ad una classe di concorso che non è una materia di insegnamento una classe di concorso è per esempio matematica e fisica meccanica e tecnologia cioè permette di insegnare almeno una materia se non più materie e quindi dalla classe di concorso si capisce a si capisce si capiscono anche le materie che si possono insegnare ovviamente una classe di concorso può contenere una o più materie di insegnamento e questo è collegato a quale tipo di laurea magistrale si ha le classi di concorso essenzialmente sono dei codici solitamente posso iniziare con A0 e poi si prosegue che so 24 A015 questi sono i codici ad ogni titolo di studio corrispondono quindi l'aspirante di docente avrà un titolo di studio che non è detto che sia per forza una laurea magistrale a volte basta un diploma quindi vi è un titolo di studio e vi è una corrispondenza di almeno non sempre però comunque una classe o più classi di concorso che si possono insegnare per ogni classe di concorso ci sono delle relative materie che si possono insegnare l'accesso ad una classe di concorso è quindi il requisito numero uno per diventare insegnanti quindi questo sicuramente è il primo step dopodiché il solo possesso va precisato che il solo possesso del titolo non basta assolutamente per cominciare la carriera di insegnante infatti ad oggi perché poi le regole cambiano sempre bisogna possedere il giusto numero di CFU giusto numero o valore di CFU crediti formativi universitari che vengono maturati durante il percorso universitario master corsi formativi e qui quindi entra in gioco la valutazione del proprio piano di studi in base agli esami sostenuti qui quegli esami sostenuti avranno un codice della materia sostenuta per quel codice bisogna conseguire determinati CFU e quindi si possono calcolare i crediti formativi accumulati e compararli con le tabelle con le tabelle che il MIUR mette a disposizione per individuare la compatibilità con la classe di concorso con cui si potrebbe accedere con la laurea o con il diploma la pagina del ministero per controllare a quali classi di concorso si può accedere con il titolo è relativa al D PR 19 2016 e al decreto ministeriale DM 259 2017 quindi potete andare a trovare delle tabelle e se avete ulteriori difficoltà potete sempre chiedere a me eventualmente poi vi parlerò di queste un pochettino meglio di queste tabelle bisogna adesso non fare confusione tra i CFU di cui vi sto parlando che sono quelli che facciamo all'università relativamente a determinate materie e assolutamente non bisogna confondersi con i 24 CFU previsti dal decreto legislativo numero 59 del 2017 all'articolo 5 realtà comma 1 lettera B che parla dei 24 CFU che devono essere conseguiti in pedagogia antropologia psicologia che sono quei crediti necessari per produrre la obbligatori per produrre la domanda alcuni chiedono anche ma per mandare la messa a disposizione perché prima di diventare di ruolo ci sono tantissimi modi per essere supplenti o incaricati insomma no? tramite messa a disposizione tramite gradatore di istituto tramite gradatore di prima e seconda fascia ovviamente e vi dico solo un qualcosa perché questo è il punto 2 che se il dirigente si trova si dovesse trovare nella condizione di dover attribuire una sorpresa fuori gradatoria è logico pensare che tra un aspirante in possesso i titoli di studio completo e i 24 CFU utili per l'insegnamento sia da riferire a chi si presenta ovviamente col titolo di studio completo e magari che ha anche quei 24 CFU come detto già contemplati dal DPR e dal decreto ministeriale in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche non ve lo scrivo ve lo dico e basta perché è veramente quindi una delle parole chiave al punto 3 diventa il concorso infatti qui troverete tantissimi video di preparazione al concorso guarda esco fuori dalla slide ma tanto si dovrebbe leggere lo stesso concorso ordinario, concorso straordinario, concorso abilitante, concorso TFA chi può accedere però al concorso bisogna avere i requisiti quindi fino a un po' di tempo fa era necessaria l'abilitazione che veniva conseguita tramite la SIS, il TFA o il PAS ma oggi non lo è più perché il concorso è diventato abilitante per chi lo supera diventa direttamente abilitato quindi il concorso virgolettato perché queste non sono parole mie costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui è l'articolo 3,4 lettera A che cosa significa? che c'è la necessità di una laurea magistrale a ciclo unico oppure di un diploma di secondo livello dell'altra formazione artistica musicale o equivalente e equiperato anche chi viene dall'alberghiero ovviamente e ha il diploma di ad esempio pasticcere e cucina può assolutamente essere in possesso di questi prerequisiti o requisiti per poter accedere al concorso dei 24 CFU crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva ed estracuricurale nelle discipline, abbiamo detto, antro, psicopedagogiche, nelle metodologie e tecnologie didattiche fateli bene questi 24 CFU perché poi diventano anche domande di concorso soprattutto della prova preselettiva della prima ma di tutto prima e seconda prova perché ormai come avete visto in tutti questi video le metodologie didattiche quindi che fanno parte della pedagogia le conoscenze psico e antopedagogiche le tecnologie didattiche ripeto le metodologie servono assolutamente poi per superare anche il concorso e quindi si devono comunque si deve avere il possesso di 24 CFU ripeto di pedagogia pedagogia speciale didattica di inclusione psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche che vengono rilasciate da università sia statali che private poi bisogna essere in possesso di una abitazione specifica sulla classe di concorso e quando andrete a vedere le i requisiti per poter insegnare una classe di concorso state attenti perché molto dipende da quando vi siete diplomati o laureati perché di anno in anno i requisiti diventano più stringenti vi faccio un esempio è raro che arrivo a fare questo però ho bisogno di cancellare qualcosa vi faccio un esempio così poi diventa molto più chiaro il tutto allora pensiamo a un ingegnere meccanico con laurea magistrale in ingegneria meccanica che è LM33 un ingegnere meccanico se ha conseguito tale laurea vi dico a grandi linee eh prima degli anni 2000-2005 può insegnare circa 10 11 materie direttamente anche per esempio matematica e fisica poi mettiamoci anni 2000 dopo gli anni 2000 è stato stabilito che matematica e fisica non si può più insegnare è una classe di concorso eh però si può insegnare nella classe di concorso di matematica e nella classe di concorso di fisica mi chiederete che cosa cambierà che matematica e fisica ad esempio viene insegnata nel liceo scientifico matematica solo matematica e solo fisica negli istituti nei professionali anche nelle ragioneria ovviamente ci sono tante altre materie abbiamo detto matematica, fisica, tecnologia, meccanica mineralogia eccetera eccetera questo diciamo che ne so dal 2005 a un certo punto dal 2010 dicono sì fisica la puoi insegnare però devi avere almeno 30 CFU nel proprio percorso di di laurea quindi 180 più 120 no? la laurea magistrale viene conseguita da una laurea triennale che sono 180 CFU e la laurea magistrale sono 120 CFU e quindi in totale ce ne sono 300 questo ovviamente è uguale è la stessa cosa perché è laureato in biologia, matematica, fisica, economia a un certo punto dicono guarda non basta più avere avere per insegnare fisica non basta più avere la laurea in ingegneria meccanica ma ci vogliono almeno 30 CFU specifici nella materia fisica che ne so, FIS01 questo sarà il codice della materia allora che significa? io sono un ingegnere meccanico ho preso la laurea prima del 2000 posso insegnare 10 materie dopo il 2005 ne posso insegnare 9 una se ne va dopo il 2010 posso continuare a insegnarne 9 però devo avere almeno 30 crediti formativi dell'università in fisica poi così proseguendo nel 2015 potrebbero dire guarda per insegnare matematica ce ne vogliono 120 specifici in matematica perché? perché la legge non può essere diciamo in linea di massima non è retroattiva quindi che cosa accade? che adesso quando avete una laurea magistrale il più delle volte non è sufficiente se andrete a vedere che potrete insegnare determinate classi di concorso dovete andare a vedere anche quanti se ci sono dei limiti ostativi relativamente a quanti crediti che CFU avete accumulato e state attenti quindi di solito se avete preso la laurea molto tempo fa questo diciamo questo impeachment questa difficoltà in più non ci sarà quindi non fatevi non iscrivetevi a corsi universitari da 7-800 euro veramente tosti magari spendete altri 6 mesi della vostra vita non serve perché dovete andare di volta in volta a ritroso nel tempo cioè il decreto legislativo 59 del 2019 disciplina le attuali situazioni cioè chi ha preso che ha questa laurea magistrale potrà insegnare questa determinata classi di concorso e queste determinate materie però ovviamente chi ha preso la laurea 10 anni prima è possibile che poteva insegnare ancora più materie e senza nessun vincolo di crediti formativi universitari quindi magari non c'era il vincolo di avere che ne so almeno 70 crediti formativi universitari in chimica quindi andatevi andate a vedere anche questo ci sarebbe poi la parte 4 la parte 5 la parte 6 che potrò andare a trattare se vi interessa perché poi ci sono delle norme speciali per chi ha 3 annualità di servizio nelle scuole secondarie statali soprattutto perché l'Europa a un certo punto ci bacchetta e ci dice ma tu stato italiano fai un contratto per 3 anni e poi non metti in regola il docente sapete che che spesso anche nelle attività private magari si fa 1 2 3 anni di contratto poi a un certo punto si ha il contratto a tempo determinato nella scuola non è così assolutamente non è che ci sono cioè questo termine precario che viene usato ormai da da forse 40 anni perché esistono precari purtroppo persone che sono state precarie a vita per cui si insegna 1 2 3 10 20 anni ma lo stato non ti farà mai un contratto a tempo indeterminato ovviamente ci sono anche persone che vincono il concorso o magari ci sono delle dei periodi particolari politici per cui si decide di assumere tutti e quindi in realtà poi c'è un'alternanza di periodi in cui non si assume nessuno in cui si assume tantissime si assumono tantissime persone considerate che è capitato anche di passare 15 anni senza concorsi e proprio tra il 2020 e il 2021 avremo ben 5 concorsi straordinario ordinario per TFA abilitante ce ne sono veramente tanti quindi per chi vuole diventare insegnante forse è arrivato il momento giusto di investire le proprie risorse nello studio e a tal proposito vi dico qui sotto avrete la possibilità di iscrivervi a questo canale dove troverete oltre 150 200 video che sono che vengono continuamente eh aggiornati di preparazione a concorso ovviamente tutti gratuiti qui la possibilità non finisce qui di scrivere un commento e andare a chiedere delle citazioni specifiche in merito qui ci sarà la possibilità di mettere il pollicino in su qui sopra di solito c'è il link che potrete andare a copiare a condividere con i vostri amici in realtà anche qui c'è una funzione di condividi potete condividere su social network o semplicemente copiare il link oppure mandarlo ad amici su whatsapp questo è quello che potete fare per passare direttamente la parola ai vostri amici e spero cari colleghi futuri e con questo io vi auguro una buona continuazione di giornata anche se magari sera e una buono studio tanta tanta serenità e felicità e a presto